Sette anni, tanti sono passati dalla devastante scossa di terremoto che all'alba del 30 ottobre 2016 distrusse parte dell'Italia centrale, già provata dal sisma di qualche mese prima per la precisione agosto. Una scossa lunghissima avvertita chiaramente anche ad Arezzo, la cosiddetta botta forte, come è stata definita in un video realizzato a Campi di Norcia, piccolo borgo che grazie all'instancabile attività di Roberto Sbriccoli è rimasta molto legata al territorio aretino. Oggi piano piano Norcia sta risorgendo, con la messa a dimora del tetto della cattedrale e l'apertura di nuove realtà commerciali, ma altri paesi sono ancora semifantasma. In quel frangente tanti aretini arrivarono a Norcia a cominciare dai vigili del fuoco, dai volontari e dal personale sanitario. Un lavoro prezioso e senza sosta per far sì che nessuno si sentisse solo o abbandonato. Ora la pagina più difficile è quella della ricostruzione che non sempre purtroppo è andata di pari passo con lo scorrere del tempo.